... Compierà 37 anni il prossimo 10 ottobre, ma sembra una ragazzina, proprio come la mamma, con quel pizzico di malizia che manda letteralmente su di giri chi la guarda. Naike Ribelli, un figlio giovanissimo con un campagno di scuola, un matrimonio con un tedesco e tanti flirt eccellenti e non, non finisce mai di stupire. Scollatura d'occhi, tacchi altissimi e curve fasciate, davanti ai flash è The Woman in Red. Attrice, modella e ora cantante, è l'icona tutta nostrana della musica pop, novella Lady Madicale, e proprio come la star d'oltreoceano ha candidamente ammesso la sua bisessualità, perché l'amore è amore. Grazie. 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 Grazie.